La città di Salvador, teatro della sfida tra Spagna ed Olanda, ospiterà altre sei gare del mondiale, tra cui anche l'incontro degli ottavi di finale tra gli Stati Uniti ed il Belgio in programma martedì. A far parlare di Salvador in questi giorni però non è soltanto il calcio giocato, ma anche un'esibizione in cui vengono esposte le maglie delle nazionali degli anni 30. In particolare a far discutere è la maglia di una squadra, quella della Germania del 1934. I tedeschi si presentarono al mondiale in Italia con il simbolo della svastica sulle loro maglie. Sentiamo allora cosa ne pensano alcuni visitatori dell'esibizione. Stiamo parlando della svastica, giusto? Ci sto facendo caso per la prima volta. Guardarla certo non fa piacere, ti trasmette brutte sensazioni, anche se credo che poi dipenda da persona a persona. Io non mi sento di dare un'opinione, sinceramente non ci avevo neanche fatto caso all'inizio, ma ora non mi lascia indifferente, è un simbolo che trasmette sensazioni negative. Sebbene il simbolo della svastica si identifichi immediatamente con il nazismo, originariamente venne usato sia dall'induismo che dal buddismo. Tra la collezione di 100 magliette esposte al museo ce n'è anche una dell'Italia del periodo fascista. La presenza di queste maglie nell'esibizione continua dunque a far discutere anche a tanti anni di distanza. Non so se sia una buona idea mostrare queste maglie del periodo fascista e nazista. Tutti ovviamente riconducono questi simboli al nazismo e al fascismo, non credo che riproporle susciti alcun sentimento positivo, anzi credo che potrebbe avere un impatto negativo addirittura sul mondiale. Ricordano il periodo più nero della storia in cui il pensiero di Hitler spaventava il mondo. Per fortuna il calcio serve a dimenticare anche queste cose. A Salvador si giocherà l'ultima gara dei quarti di finale il 5 luglio, quando la Coppa del Mondo sarà terminata. Per fortuna queste maglie torneranno in soffitta. Per fortuna questa maglie torneranno in soffitta.